Abbiamo accolto con molto entusiasmo questa proposta perché è l'idea di associare il nome di Avis a solidarietà e aiuto nei confronti di una sezione come quella di Amatrici, ma comunque delle persone che sono state colpite dal terremoto perché poi passato l'emozione del momento si tende a dimenticare, invece noi non vogliamo che si spenga la luce, che si dimentichi quello che è successo e nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa per aiutare e devo dire che oggi siamo soddisfatti perché è anche la bella giornata qua sul Faxal, stiamo aspettando i ragazzi che arrivano con le biciclette e con i tandem, quindi è un momento di festa ma anche di solidarietà. L'obiettivo nella pratica è di ricostruire Avis di Amatrice fondamentalmente. Sì, di dare un nostro contributo per ricostruire la sezione, la sede di Avis ad Amatrice e quindi per questo abbiamo anche stato aperto dall'Avis comunale di Alessandria un conto corrente che è finalizzato a questo, quindi oltre a raccogliere fondi durante la tappa di questo giro che è partito da Alessandria e che fa la sua prima tappa qui oggi a Piacenza, è anche quello di raccogliere dei ciclisti lungo il percorso in modo da portare anche tangibilmente la nostra presenza ad Amatrice. Grazie a tutti.